Attenzione prego, a causa della scarsità degli investimenti sociali per l'infanzia, il sogno di Michele di diventare dottore oggi non partirà. Comunicazione per Simona. Data l'assenza di corsi di musica nel suo quartiere, il suo sogno di diventare una musicista è stato annullato. Informazione di servizio. Il sogno di Chiara di diventare una biologa è stato rinviato per mancanza di fondi per laboratori scolastici. Il futuro di oltre un milione di bambini che vive in povertà in Italia potrebbe non decollare mai. Unisciti a Save the Children. Vai su illuminiamolfuturo.it e firma la petizione per eliminare la povertà educativa.